bella ragazzi quattro di questo nuovo video oggi ragazzi siamo su the forest con compagnia di the monster magic bella cominceremo una serie su questo gioco incredibile che a me è sempre piaciuto the forest visto qualche video tanti un paio di anni fa e ho pure giocato un paio di anni fa però non dico dopo niente adesso mi sto cadendo sotto a vedere stai rotto perché hanno giornato tantissimo e vabbè uscì vi dico subito come funzionare la serie uscirà un video il primo episodio uscirà su tutti e due i canali di monster magic che sia il mio poi il secondo episodio uscirà sul canale di monster magic poi il terzo sul mio canale poi il quarto sul canale e viceversa così che succede in ordine da così è come se fosse una serie fatta insieme nel suo canale soltanto io non mettiamo i numeri quindi tipo facciamo il primo episodio insieme poi il secondo lo faccio io il terzo lo fai tu devi mettere 3 no devi mettere due due perché sul suo canale quindi quindi per esempio io ogni ogni video dirò dirò a vedere video successivo nel canale di monster magic altre cosa che quindi direi di cominciare credo io la lobby che la partita nuova partita normale e dalle dagli 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 sono eccitato 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 in vita a me aspetta creando la lobby qua con comunicazioni con psn ecco sono mio ecco c'è mio figlio qua sono mio figlio qua che sono mio figlio qua e siamo sull'aereo bene a e possiamo prendere il libro e quando è giocato l'ultima volta non potevo prendere questo libro puoi fare niente va bene per timmi comunque sarà scritto survival vabbè io ho regalato io vabbè regalo tranquilli no 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 è una piccola turbolenza state tranquilli non succede niente tipi di fai voglio timmi timmi non ti preoccupare pionda tutto bene c'è lo sio di monster magic t che si affianco lo credo non lo so comunque dai dai ti vedo la mano io ma io sto da solo una vita di merda non c'è timmi eh lo so una vita di merda chi è questo o è nudo è una piccola turbolenza da chi vuol sto saltando dal mio figlio dal mio figlio coglione rimpiangerai questo momento la pasta la pasta la pasta va bene va bene hanno preso il nostro figlio ragazzi siamo molto contenti di questo sapete dovremmo volare in aria però secondo me quei ragazzi loro rompipalle ok ci sono dove sei tu non ti vedo non ti vedo ho messo solo bene il filmato ah questo sei il tutto ah non prendete timmi sono lo zio vabbè va bene ok ragazzi io sono il padre lui sono lo zio quindi siamo bene dai prendi bevande e alcol e cose prendere cose perché c'è il segno del wifi sul muro salve quanto sei brutto sei messicano mangia mangia tutto e penso lascia questa signora qui si trovava da quanto tempo qui ok io mi ricordo che le valigie si possono aprire quindi bene prendi prendi tutto io mi ricordo che c'è un cadavere bene hai l'alzheimer secondo me lo sai grazie prego prego ma è un complimento non c'è un cazzo su questo aereo guarda che la scienza sta sviluppando la cura per l'alzheimer quindi forse potete forse possono curarti eh allora vediamo con touch poi siamo l'inventario bene 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 la foto di mio figlio ragazzi quanto è carino eh sembra di mostrare magic ok ragazzi io mi ricordo che ci sono delle persone brutte su questo su questo gioco ragazzi noi vi informiamo che la prima volta ci giochiamo quindi sì ma io ho dei ricordi di persone brutte su questo gioco ho visto qualche video tipo di fa vj però non mi ricordo niente mi ricordo soltanto che anima aveva la febbre vabbè proprio come noi ho visto anch'io quel video c'è una spiaggia con una barca si bellissimo fatemi vedere voglio vedere ma che bella cosa deve essere vivere su una barca spiaggiata vero vero c'è qualcosa un cazzo ah no c'è una corta bene bene però il problema come risaliamo cioè ragazzi se non si può risalire abbiamo fatto un fail già prima episodio quindi già super clickbait serie la serie che durerà un episodio bene un gabbiano ma così si apre il libro bene 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 allora tutorial basi per sopravvivere fase 1 costruisci un rifugio puoi usare un rifugio per dormire e salvare la tua partita ok fase 2 accendi un fuoco servirà a scaldarti illuminarti la notte oppure a tenere lontani i nemici ma ricorda un fuoco può anche attirare l'attenzione ah bene quindi se accendo un fuoco voglio dicermi mi ricordo subito sarà molto più bello questo gioco si infatti poi spiega molte cose spiega tantissimo questo gioco c'è una spiegazione incredibile ok dove cominciamo a farci il rifugio questo è il dilemma su questo gioco c'è una capanna si c'è una capanna bene vogliamo vedere cosa c'è cos'è qua la droga i flare sono i flare i mandarini oh cos'era cos'è sta roba tannica di carburante non me la ricordavo questa si mi sono cambiato i panni anche io me li voglio cambiare dove sono i panni i panni ok che schifo ne spacca te c'è un villaggio dove no 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 io non ci ho andato perchè no ah magari esce qualche brutta persona eh ma si rischia la vita sai davvero si si vieni vieni quante valigie quante corde ho il massimo nelle corde bene io tre ne ho questa signora sta facendo stretching non fatelo a casa eh mi scusi ma questi due volevano giocare a tennis ma non si gioca così a tennis perchè mi ha preso ok questa tizia sta con lo stretching come avevo detto ma perchè tu non ha le casse che sono un botto di bevanda io la perte ma a te esce che non la perte a me esce che la perte cosa c'è qui della pittura e un disegno bene ah mi sono dipinto come sto come sto come sto come sto anche un disegno c'è qua di un uomo che dà un'arma a un bambino eh si sono bravo in arte io sono picasso sono van gogh bene io farei qua tutto quanto allora cominciamo cosa c'è qui ah bene questo è questo è il rifugio questo deve fare anche il fuoco fuoco base allora io inizierei con un prima con un fuoco taglia l'albero si si taglia l'albero si cade eh minchia già i tronchi i tronchi già fatti tu l'ho fatto del tronco eh no c'era un certo da sotto il mio tronco cosa voi lo prefiglio manca un tronco si taglia taglia l'albero si cade per fare l'albero ci vuole insieme per fare insieme ci vuole trickster ci vuole master magic allora devo un po' ma chi se qualcosa devo fare prendere gli animali devo un po' ah ma così dice tu vuole che puoi graffettare benissimo bene ah falla falla la faccio levati arco di fortuna posso craftarlo ah no si 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 posso craftarlo questo è questo sci c'ho l'arco ma quanto sono fissi però ma sci ma non si dice si il mio vocabula dice sci 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 però dovrei craffettare le frecce servono 28 bastoncini non ho trovato uno ma tu sei c'è uno sfigato ma cosa è questo per adarte due persone che limonano che stanno slinguazzando davanti a me vieni 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 a vedere è quasi a me sembra una testa stanno limonando sono due testa sono due testa stanno limonando non vedi ma tu ma no sono due guardate il video poi vedrai che sono due vabbè io le prendo lo stesso no 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 io mangio le bacche il primo che dorme è pro eh vabbè tu sei sei già col tasto premuto vabbè dormito io no prima l'ho fatto prima io sono pro sono pro ok adesso salvo 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 tu non sei nessuno sono pro c'è il mio cane zitto cane ti ammazzo non ho fatto niente cosa hai fatto giuro cosa hai fatto no non ho fatto niente non ho fatto niente non c'hai fatto perché lì c'è della luce c'è Gesù in quella zona sei un coglione Gesù vabbè ragazzi il video può terminare qui eh vedete il continuo sul canale di The Monster Magic quello di sederemo adesso quindi non passate sul canale di The Monster Magic passate sul canale di The Monster Magic per vedere il prossimo video eh se a qualsiasi piaciuto lasciate un bel mi piace commentate condividete scrivete al canale se avete fatto ciò il prossimo video bella ragazzi ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti